L'idea è nata grazie all'interessamento dell'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana che lo scorso aprile ha invitato alcune scuole in rappresentanza di tutta la regione a partecipare ad una giornata di formazione al Dinamo Academy a Pistoia. L'Istituto Comprensivo Maggiotti ha avuto il grande onore di essere una delle due scuole in rappresentanza della provincia di Arezzo, per cui io insieme a due insegnanti di sostegno abbiamo partecipato a questa giornata di presentazione del lavoro, del progetto e di tutta l'attività del Dinamo Academy. Siamo rimaste veramente affascinate perché non conoscevamo quella realtà e quindi ne approfitto anche per ringraziare di tutto l'impegno l'Ufficio Scolastico Regionale per i progetti di inclusione e abbiamo subito capito che sarebbe stata un'occasione di formazione fondamentale per tutti i nostri insegnanti di sostegno. E quindi abbiamo attivato tutte le procedure del caso per poter far partecipare circa 35 insegnanti di sostegno del nostro istituto ad una giornata che si è tenuta la settimana scorsa per avviare poi un percorso di collaborazione che durerà in tutto l'anno scolastico e che successivamente coinvolgerà anche direttamente i ragazzi.